Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Bentornati all'appuntamento con le previsioni meteo di TV6. Dal satellite notiamo la presenza di uno flusso umido e instabile che attraversa gran parte del centro e del sud. Si tratta di nubi medio-alte che portano non solo qualche isolato fenomeno. La vera perturbazione è ancora situata tra la penisola iberica e le coste nordafricane e si muoverà nei prossimi giorni verso est e raggiungerà l'Italia a metà settimana. Per quanto riguarda questo martedì, momentaneo miglioramento del tempo, avremo il ritorno del sole su tutta la regione e qualche addensamento residuo sui monti, sulla Maiel, però senza fenomeni, prevarrà il sole per tutta la giornata su tutta la regione. Temperature in lieve ripresa, le massime raggiungeranno i 15 gradi alle basse quote e nel primo entroterra, però clima gradevole anche nelle aree interne e sui monti in pieno giorno. Di notte notate le minimi ancora abbastanza basse, valori tra meno 1 e 5 gradi. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Letizia Costruzioni. Realizziamo i tuoi sogni.